Ciao amici, ben ritrovati, come state? Io sto benissimo, chi mi ha seguito sulla pagina del viaggio in India sa che sono tornata proprio ieri, che freddo che ho trovato, ma è stato un bellissimo viaggio, ciao Simona, ciao! Per fortuna con i commenti ci siamo tenuti in contatto anche da lontano e ho messo alcune foto del viaggio sul mio sito, andate a vederle se siete curiosi cliccando sul link in descrizione o nella piccola i qui in alto. Da domani inizierò a preparare un reportage completo del viaggio con foto, video e testimonianze di chi è venuto insieme a me. Siete curiosi? Io sì, voglio proprio vedere come viene. Ah, quando esce? Appena possibile, ma se volete essere avvisati subito appena esce, basta iscriversi al canale con un click, così è facile, e attivate la campanella delle notifiche. Ma veniamo a noi, questa settimana siamo nel pieno del back to school, il rientro a scuola, che coinvolge tutti i ragazzi, ma anche noi adulti. È vero, bisogna iniziare a dire a baby scuoletto e devi fare i compiti. Lo sapevate che gli italiani sono gli scolari che fanno le vacanze più lunghe in Europa? Invece Germania e Inghilterra fanno le vacanze più corte. Non c'è pericolo che si abituino a stare a casa come i nostri ragazzi. In ogni caso, se i ragazzi manifestano mal di pancia o mal di testa i primi giorni di scuola, non allarmatevi troppo. Potrebbe essere un segnale di ansia che di solito scompare dopo le prime settimane di scuola. Mennomale, io stavo già tirando fuori mezzo armadietto dei rimedi. Se invece dicono di essere stanchi e non riescono a stare attenti a scuola, verificate le ore di sonno. I ragazzi dai 13 ai 18 anni devono dormire dalle 8 alle 10 ore ogni notte, altrimenti vanno in debito energetico. E allora questa settimana voglio approfondire il back to school. Se vi piace l'idea mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Mercoledì nel vlog voglio parlarvi di fiori di bac. Pensate che c'è una miscela di fiori di bac che aiuta a mantenere la concentrazione e avere più sicurezza a scuola di fronte alle prove. E anche per chi lavora e elimina l'ansia da prestazione per i colloqui, i test, le riunioni. Vi darò la ricetta. Venerdì voglio farvi vedere alcuni esempi di merende sane, perfette per i ragazzi. Anzi sapete cosa vi dico, anche per gli adulti. Sabato serena ci farà vedere un workout completo per restare in forma tutto l'autunno. E domenica vi voglio parlare di come dormire bene. Il sonno è una delle colonne portanti della salute. Vi farò vedere la mia night routine per dormire bene. E vi darò tanti consigli utili per il riposo dei nostri ragazzi, degli studenti e dei genitori. Come sempre condividete questo video sui vostri social e con i vostri amici per essere sempre più trendy e sani con Simona Vignali. E noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao! Staccare qui in alto!